La prima volta è una grande emozione, un evento storico, un evento del territorio, un evento della comunità, che però è un evento che è diventato anche importante nel mondo internazionalmente, quindi anche un'attrattiva molto importante che fa bene al turismo della nostra nazione. Non è un'attrazione turistica, è una grande occasione che chiunque che ci venga da turista, che ci venga da appassionato di cavalli, che ci venga da appassionato di antropologia, deve provare o può provare a capire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.